Bene, buongiorno a tutte e a tutti, grazie per essere qui, grazie ad Alberto che ha permesso, diciamo, tecnicamente di fare questa cosa che ieri ha funzionato, quindi insomma è un sistema che può andare. Metto subito le diapositive e parlerò sopra le diapositive. A nome di Giulia vi ringrazio e devo ringraziare anche tutti i componenti dello staff dell'ambulatorio e dell'AIA sanitaria che hanno permesso chiaramente di realizzare questa parte. Inizio con una introduzione generale, alcuni punti, ecco, vi sarete resi conto tutti, anche i non tecnici, come questa effettivamente è una pandemia particolare, sia per dimensioni, proprio perché è una pandemia, quindi è una dimensione mondiale, ma anche per le conoscenze scientifiche in qualche modo in divenire. Avevamo, sapevamo poco di questo virus, delle caratteristiche, ancora oggi non sappiamo in maniera completa le caratteristiche di questo virus e anche di come questo virus si manifesta dal punto di vista clinico. notiamo costantemente che vengono aggiunti dei tasselli nella conoscenza. Questa a noi forse interessa relativamente, ma quello che ci interessa di più è che comunque l'approccio anche di mitigazione della pandemia ha avuto un approccio diversificato e ancora oggi c'è abbastanza confusione. vediamo tutti i giorni assistiamo a questo grosso dibattito tra centro e periferia, tra Stato e regioni, come ognuno pensa di approcciare in maniera diversa e a volte questo crea confusione. Ecco, noi siamo dentro questa situazione e dobbiamo in qualche modo governare, nel nostro piccolo, all'interno delle nostre strutture, questa situazione generale. Una filosofia di fondo, su questo siamo tutti d'accordo, cioè non bisogna dare spazio al virus. Il virus ha bisogno di noi per poter continuare a vivere e a diffondersi. Se noi interrompiamo questo contatto, il contatto collegamente con il virus, il virus progressivamente va a diminuire la sua azione, la sua diffusione. Questo è il ragionamento dell'interruzione delle catene di contagio, dell'isolare i focolai che possono essere focolai individuali e collettivi. Quindi in questa pandemia particolare, con questa filosofia di fondo, si aggiunge un altro elemento che dobbiamo tenere conto, che è l'interogeneità dei nostri servizi, dei servizi Caritas e CRS. Abbiamo dei servizi che sono degli uffici, abbiamo dei servizi di accoglienza, insomma non vi sto a dire, conosciamo tutti, abbiamo dei servizi particolarmente vulnerabili, a rischio, pensiamo allo stesso ambulatorio che è aperto sulla strada e che quindi vede persone malate. Insomma, sono situazioni molto diversificate con una pluralità di attori coinvolti. Siamo noi, gli operatori, ma ci sono i volontari e alcuni servizi sono determinanti volontari, ci sono i manutentori, che sappiamo bene di quanta manutenzione i nostri servizi hanno bisogno, ci sono i fornitori, le persone ascoltate, le persone assistite, le persone accolte. Quindi tutto questo crea veramente una situazione di complessità del sistema molto molto alta. Il sistema ha retto, con molta fatica ma ha retto fino adesso e questo devo dire per il grande lavoro integrato che è stato fatto all'interno di tutte le aree e tra le aree e con la direzione. Mai come in questo periodo, perlomeno noi capi aria ci siamo sentiti confrontati, ascoltati, in alcuni casi anche confortati, penso ai primi momenti quando effettivamente la situazione era, se vogliamo, drammatica, dove non sapevamo dove potevamo andare e cosa potevamo fare. Questo grosso lavoro tutti insieme ci ha aiutato molto, è un confronto continuo, con degli aggiustamenti continui, con una condivisione continua. E di questo ringrazio tutti voi, oltre che chiaramente è la parte più apicale che possono essere capiari alla direzione. In questo periodo c'è stata anche una grandissima, direi quasi un eccesso di informazioni. Queste informazioni spesso non sono state verificate, o non sono verificate quando le leggiamo, le sentiamo. Alcune di queste informazioni sono discordanti. Allora, noi abbiamo scelto di utilizzare poche fonti, ma fonti sicure. Anche se su alcuni aspetti magari non troviamo esattamente quello che a noi interessa. Devo dire l'attenzione per le situazioni in condizioni di marginalità, per le situazioni non standard, purtroppo non è ancora massima da parte delle istituzioni. Ma comunque noi abbiamo votato come fonti le indicazioni nazionali, che vengono quelle dello Stato, i famosi DPCM, alcuni di questi sono stati poi convertiti chiaramente in legge. E diciamo tutte le indicazioni che vengono dal Ministero della Salute. Chiaramente abbiamo tenuto conto anche delle informazioni, delle indicazioni locali, in particolare quelle dal punto di vista regionale, quindi le ordinanze e le note. Le ordinanze in un periodo di emergenza come questo sono cogenti. Nel senso che non sono dei consigli, ma sono delle indicazioni molto puntuali. Come riferimento tecnico-scientifico abbiamo fatto riferimento ai documenti dell'Istituto Superiore di Sanità e a livello più locale abbiamo come sfondo, direi non tanto come riferimento ancora, ma come sfondo i nostri DVR, che sono i documenti per la dotazione di rischio, che ogni servizio deve avere, che sono stati aggiornati in questo momento in maniera abbastanza frettolosa, ma che dovranno sempre di più diventare degli strumenti utili per poter gestire non solo questa emergenza, ma in genere le attività all'interno dei nostri servizi dal punto di vista di tutela e di protezione. Questi sono i siti a cui abbiamo fatto riferimento. Queste diapositive verranno messe a disposizione, quindi potete poi trovarli direttamente, adesso probabilmente sul sito della Caritas, vedremo dopo dove metterlo. Comunque potete trovare tutto ciò che noi diciamo, tutti i documenti importanti in questi siti. Quindi della protezione civile, dove in genere nella sezione normativa trovate tutta la normativa a livello nazionale, a livello locale, cioè delle singole regioni, tutte le indicazioni della protezione civile e così via. Il sito del Ministero della Salute, dove non c'è solamente la parte normativa, ma ci sono anche indicazioni, raccomandazioni, infografiche. Regione Lazio in particolare per le ordinanze. Lo Spalanzani, perché dal punto di vista scientifico ogni giorno fa un report che raggruppa e sintetizza tutte le informazioni scientifiche che abbiamo, sia dal punto di vista epidemiologico, cioè la diffusione a livello nazionale e internazionale, ma anche tutte le evoluzioni, ad esempio sul vaccino, piuttosto che sulle terapie. Insomma, è un punto di riferimento. Infine, l'ultimo ambito che abbiamo considerato e che mettiamo a disposizione sono le infografiche dell'Istituto Superiore Sanità. Tutte le raccomandazioni pratiche che adesso Giulia vi indicherà, sono state prese sostanzialmente dalle varie indicazioni che vengono dall'Istituto Superiore di Sanità. E quindi trovate anche delle rappresentazioni grafiche abbastanza friendly, cioè facili da capire, da leggere e anche da diffondere. Da dove siamo partiti? Il primo step di questa formazione è quel documento appunto che abbiamo inviato con un audio che abbiamo redatto insieme con l'Università della Sapienza. Diciamo, tutto questo processo formativo è stato coordinato con l'Istituto di Igiene e Sanità Pubblica dell'Università della Sapienza. La prima parte dà, come dire, i prerequisiti, dà le informazioni generali, dà le definizioni in modo da avere un linguaggio comune. Se non l'avete fatto, io vi consiglio, se avete tempo, dura mezz'ora, andatevelo a sentire, perché dà tutta una serie di informazioni. Devo dire, alcune cose si sono aggiornate, però sostanzialmente le informazioni che dà sono le informazioni di base su cui dobbiamo partire per fare il ragionamento che faremo oggi. Il ragionamento di oggi è un ragionamento molto operativo. E se per questo volete forse già che voi conoscete, conoscete, perché in questi mesi siamo stati bombardati dell'informazione sul lavaggio, sulle mascherine, sulla temperatura e così via. Però adesso cercheremo di fare il punto passo per passo, in modo tale di avere tutti delle informazioni di base. E per fare questo do la parola a Giulia, che vi accompagnerà in questa parte. Sì, ciao a tutti. Come accennava Salvatore, probabilmente le misure che ora vedremo sono misure che avete già sentito, di cui avrete letto, passate anche attraverso i mezzi di informazione, ma è importante un attimo riprenderle insieme e sottolinearne alcuni aspetti. Nella presentazione abbiamo inserito due infografiche, che sono quelle del Ministero della Salute. la prima, che tra poco vedrete, è quella che sicuramente avete già visto anche in diversi luoghi pubblici e che riassume le principali misure, le principali attenzioni da avere, soprattutto là dove ci sono anche altre persone, ma è bene averle anche nel proprio domicilio. La seconda è quella relativa alla fase 2 e è assolutamente comparabile alla prima. La premessa di tutte queste raccomandazioni è che queste sono raccomandazioni che valgono sia per le persone che accedono ai nostri servizi, quindi per gli ospiti delle strutture, per le persone che accedono ai centri di ascolto, all'emporio, alle strutture sanitarie, e valgono allo stesso modo per tutti noi operatori e allo stesso modo per tutti noi volontari. Tutti dobbiamo avere queste attenzioni per evitare che la diffusione dell'infezione continui appunto a persistere sul territorio nazionale e locale. Ora vi andiamo a vedere una per uno appunto nel corso della presentazione. Questa è la seconda diapositiva che vi dicevo. La prima raccomandazione che sicuramente abbiamo sentito tutti è quella di lavarsi molto spesso le mani. Il lavaggio delle mani può essere fatto o con acqua e sapone o con soluzione alcolica e c'è una particolare modalità di effettuarlo e subito dopo lo vedremo nella diapositiva successiva. Il lavaggio delle mani va effettuato prima di venire a contatto anche con una persona se c'è necessità, per un'assistenza, immagino, non so, in una struttura come Villa Glory, dopo che si è venuto a contatto con superfici comuni come piani di appoggio, maniglie, telefoni e sicuramente molto spesso nel corso della giornata. L'utilizzo dei guanti, anche su questo lo vedremo dopo, non sostituisce il lavaggio delle mani che rimane una delle misure fondamentali per evitare la diffusione dell'infezione. È importante anche evitare di toccare con le mani, occhi, naso, bocca. Questi sono movimenti che molto spesso facciamo inconsapevolmente ma che possono essere dei movimenti traditori nel momento in cui noi tocchiamo una superficie che magari può essere contaminata e senza lavarci le mani poi ci tocchiamo il viso. Allora su questo dobbiamo stare molto attenti. Si devono evitare, ormai a questo ci siamo abituati e dovremmo farlo ancora per un po' gli abbracci e le strette di mano quindi salutarsi da lontano e poi in caso di starnuti o di colpi di tosse meglio utilizzare fazzoletti monouso poi da gettare subito nei rifuti indifferenziati e subito dopo lavarsi le mani ovviamente in maniera reguata. Nel caso in cui non si dispone di fazzoletti monouso bene usare la piega del gomito. Nel caso in cui ci siano nell'ambiente in cui siamo presenti delle persone con infezione respiratoria acuta con sintomi di raffreddore, tosse è bene evitare sicuramente il contattore avvicinato e chiedere alla persona di indossare la mascherina ma poi anche qui faremo un passaggio sulle mascherine ed è bene evitare l'uso promiscuo di bottiglie e di bicchieri. Sono semplici raccomandazioni per molti di noi possono essere anche scontate probabilmente per alcuni dei nostri ospiti sono già un traguardo e quindi ripeterli, anche educare tutte le persone volontari, operatori e persone che accedono ai nostri servizi a queste misure diventa anche un'occasione per lavorare sulla cura del sé. Per quanto riguarda il lavaggio delle mani abbiamo inserito nella presentazione i due poster che probabilmente avrete anche già visto su come si effettua il lavaggio delle mani per essere sicuri di avere poi delle mani effettivamente pulite. Con acqua e sapone il lavaggio deve durare tra i 40 e i 60 secondi si deve stare attenti a toccare tutte le parti della mano quindi il palmo, il dorso, tra le dita, la punta delle dita, il pollice si deve asciugare poi la mano con una salvietta e con la stessa salvietta chiudere l'acqua del rubinetto e eventualmente aprire la maniglia della porta e poi eliminare la salvietta e in quel modo le mani sono pulite. Se si utilizza la soluzione alcolica, il gel disinfettante che dovrebbe essere messa a disposizione in tutti i luoghi pubblici in tutti i luoghi aperti al pubblico il lavaggio può durare 20-30 secondi i movimenti da fare sono gli stessi e una volta asciugate le mani le mani sono sanificate, sono pulite e si può appunto lavorare in sicurezza. Accennavo prima che il lavaggio delle mani non deve sostituire non deve essere sostituito scusate, dall'utilizzo dei guanti cioè non dobbiamo pensare che una volta messi dei guanti siamo in sicurezza e quindi ad esempio tenendo lo stesso paio di guanti per tutta una mattinata o per una giornata ci sentiamo difesi da eventuali contaminazioni. Ovviamente i guanti devono essere messi anche dopo che i guanti sono stati tolti si deve sempre effettuare il lavaggio delle mani. Ogni volta che i guanti si sporcano e sono appunto evidentemente rovinati devono essere sostituiti e comunque molto spesso vanno sostituiti ad esempio in contesti sanitari vanno sostituiti sicuramente passando da un paziente ad un altro. Devono essere eliminati nei rifiuti indifferenziati e anche qui quando indossiamo i guanti non dobbiamo pensare di poter toccare il nostro viso in maniera sicura perché i guanti poi diventano anche contaminati. Le indicazioni del Ministero suggeriscono l'utilizzo dei guanti sia ad esempio nei supermercati o nei luoghi dove si viene a contatto con alimenti e anche nel trasporto pubblico. Ci sono comunque dei contesti dove è assolutamente necessario l'utilizzo dei guanti indicato ed è sia quando viene effettuata la pulizia quindi il personale addetto alle pulizie degli ambienti, delle superfici sia le persone che sono a contatto con alimenti quindi pensiamo alle nostre menze o alle cucine dei centri di accoglienza o là dove si mangia appunto chi è a contatto con gli alimenti ovviamente anche in caso di assistenza sanitaria ospedaliera, ambulatoriale lì è indicato utilizzare i guanti ripeto facendo sempre molta attenzione a comunque fare il lavaggio delle mani prima e dopo il loro utilizzo e a sostituirli ogni volta che appunto si ritiene necessario. Ancora continuando con le semplici raccomandazioni che ormai sono entrate già nel nostro modo di comportarci ma è bene sempre ripeterle sicuramente è indicato mantenere la distanza di almeno un metro meglio anche due quando si è a contatto con altre persone evitare gli assembramenti e areare bene i locali ogni volta che è possibile queste anche misure fanno parte della sensibilizzazione dell'educazione sanitaria che dicevamo prima e i nostri servizi sono stati già in parte riorganizzati con queste attenzioni con l'aumento degli orari di apertura della mensa ad esempio o lo spostamento anche della mensa serale a Colleoppio dove c'è anche un tendone per aumentare la distanza il dare appuntamenti telefonici per evitare che si creino assembramenti e anche qui ci sarà anche da lavorare in fase 2 per capire quali altre misure sarà necessario inserire nei nostri servizi per mantenere queste attenzioni per un po' di tempo almeno fino a che non potremmo sviluppare noi le difese grazie a un vaccino per evitare appunto l'infezione da virus per quanto riguarda gli ambienti chiusi dicevo l'importante è areare bene i locali si consiglia di aprire le finestre spesso sicuramente dopo che viene effettuata la pulizia anche durante la pulizia degli ambienti è bene areare bene i locali l'Istituto Superiore di Sanità consiglia di non farlo nelle ore di punta del traffico fino a poco tempo fa non era un problema perché le strade erano deserte ora diventa il traffico aumentato quindi si deve stare attenti a questo e comunque è sempre bene avere attenzione a garantire un buon ricambio d'aria ci sono delle indicazioni specifiche anche per la pulizia degli impianti di condizionamento su questo non abbiamo inserito la diapositiva perché ci sta viene effettuata in questo momento una valutazione tecnica da parte di chi di competenza dell'ufficio tecnico insieme ai capo aria eventualmente i coordinatori dei servizi però anche su quella parte degli impianti di condizionamento si deve avere attenzione effettuare diciamo pulizia e sanificazione in maniera adeguata per quanto riguarda la pulizia delle superfici in particolare delle superfici comuni come tavoli sedie manigli appunto apparecchi telefonici le indicazioni ufficiali dicono che si devono utilizzare disinfettanti disinfettanti contenenti alcol ad una concentrazione di 70-75% oppure disinfettanti contenenti ipocolorito di sodio cioè la candeggina ad una concentrazione dello 0,5% l'alcol e la candeggina sono venduti a una concentrazione più alta rispetto a quella che serve per la disinfezione quindi per avere questa concentrazione devono essere diluiti le caratteristiche della direzione le trovate scritte nella diapositiva ad esempio se si acquista alcol a 90 gradi per ottenere alcol al 75% si deve aggiungere a 100 ml di alcol 27 ml di acqua e così come ci sono delle attenzioni da avere per la diluizione della candeggina nel caso in cui si voglia appunto utilizzare per la disinfezione delle superfici per pulire le superfici è consigliabile sempre prima pulirle magari con un semplice panno con acqua e sapone e poi applicare il disinfettante per fare in modo appunto che agisca sulla superficie quando si utilizzano disinfettanti acquistati è bene sempre vedere l'etichetta del disinfettante per controllare la composizione non sempre i prodotti dove in grande c'è scritto disinfettante hanno poi questa composizione che vi dicevo prima quindi a base di alcol o a base di candeggina cioè proprio di sodio quindi è bene controllare questa composizione e utilizzare effettivamente solo quei disinfettanti che confermano di avere una di queste due caratteristiche non è bene miscelare più disinfettanti questo potrebbe essere anche tossico per chi usa questo materiale e come dicevo è bene areare beni locali durante e dopo l'utilizzo appunto di questi prodotti disinfettanti l'ultima parte delle raccomandazioni generali anche una parte molto discussa è quella dell'utilizzo delle mascherine allora le mascherine servono per la protezione delle vie respiratorie per coprire le vie respiratorie le mascherine chirurgiche ora parliamo di quelle chirurgiche sono dei dispositivi medici che evitano che la persona che le indossa infetti gli altri quindi le mascherine chirurgiche non servono a proteggere chi le indossa ma servono a proteggere le persone con cui chi indossa la mascherina viene in contatto perché evitano le fuoriuscite di particelle le mascherine chirurgiche sono certificate in base ad una normativa europea e i produttori che le producono appunto devono dimostrare di seguire tutta una serie di regole quando è iniziata l'emergenza sanitaria il ministero della salute ha permesso anche a produttori che normalmente non producono mascherine certificate di produrre mascherine e di venderle sul territorio nazionale queste non hanno il marchio CE quindi non hanno il marchio della normativa europea ma possono essere utilizzati in contesti cosiddetti di comunità così li definisce anche il decreto del 26 aprile sono mascherine di comunità per essere prodotte il produttore deve dichiarare semplicemente che le mascherine non sono nocive a chi le indossa ad esempio non creano irritazione sulla pelle di chi le indossa non sono però certificate le mascherine di comunità possono essere anche autoprodotte diverse persone possono prodursi magari si sono cucite da sole la mascherina a casa anche in questo caso si possono utilizzare l'importante è che siano multistrato ci sono dei contesti in cui è necessario utilizzare le mascherine chirurgiche cioè quelle certificate in particolare l'assistenza sanitaria lì è impossibile non utilizzare quelle certificate è consigliato fortemente raccomandato utilizzare quelle chirurgiche anche in contesti di trattamento di alimenti quindi ad esempio pensa la mensa è bene utilizzare le mascherine chirurgiche e poi le mascherine chirurgiche vanno utilizzate anche da chi presenta dei sintomi di sintomi similinfluenzali o di raffreddamenti in quel caso è bene che la persona abbia una mascherina chirurgica in tutti gli altri contesti possono essere utilizzate delle mascherine di comunità anche autoprodotte e come ormai vi sarete già accorti ci sono sono obbligatorie nei luoghi pubblici chiusi soprattutto laddove non è possibile mantenere la distanza di un metro ma in generale in tutti i luoghi pubblici chiusi è fortemente raccomandato l'utilizzo di mascherine e in alcuni casi è obbligatorio come ad esempio nel trasporto pubblico negli autobus una finestra rapida su come si mettono le mascherine è bene sempre prenderle dagli elastici e lavare le mani prima di metterle poi prenderle dagli elastici farle aderire bene al mento bocca e al naso facendo aderire bene nel ferretto al naso e per toglierle sempre toglierle dagli elastici si possono utilizzare fino a quando non si inumidiscono sicuramente se si inumidiscono vanno cambiate e poi diciamo possono essere utilizzate continuativamente per 8-10 ore se durante una giornata non utilizzo continuativamente una mascherina chirurgica posso anche pensare di utilizzarla due giorni e poi sostituirla quindi direi massimo due giorni e poi la sostituiamo chiaramente parlando di quelle monouso per quelle riutilizzabili è consigliato lavarle in lavatrice a 60 gradi se possibile non ci sono altri metodi ufficiali per disinfettarle o per sanificarle il metodo che suggerisce l'Istituto Superiore di Sanità è quello del lavaggio a 60 gradi fino a che non perdono diciamo la loro capacità in qualche modo di evitare che le particelle fuoriescano un'ultima finestra sulle mascherine FFP ormai famose in particolare le FFP2 e le FFP3 le FFP1 non ne parliamo perché quelle servono in contesti di lavori di edilizia per la protezione contro le polveri quindi non sono diciamo protettive in contesti di infezione le FFP2 e le FFP3 vengono utilizzate in contesti sanitari le indicazioni ufficiali dicono laddove si viene a contatto con pazienti covid positivi perché proteggono anche chi le indossa da un eventuale contagio ma le indicazioni ripeto ufficiali suggeriscono il loro utilizzo anzi raccomandano il loro utilizzo quando c'è un contatto ravvicinato in manovre sanitarie come l'ispezione della bocca o l'effettuazione del tampone o l'effettuazione di un lavaggio bronco broncalveolare in altri contesti non sono suggerite ci possono essere mascherine FFP con valvola o senza valvola anche qui una nota solo per dire che è bene utilizzare eventualmente quelle senza valvola perché queste non solo proteggono chi le indossa ma impediscono anche che le particelle fuoriescano quindi impediscono che chi indossa la mascherina infetti gli altri cosa che invece la valvola non fa la presenza della valvola aiuta a respirare la persona che indossa la mascherina ma non evita che le particelle fuoriescano quindi chi ha mascherine con valvola per evitare di infettare gli altri è bene sempre apporre sopra la mascherina con valvola una mascherina chirurgica in questo modo si crea la barriera appunto questa piccola finestra sulle mascherine FFP ora passo di nuovo la parola a Salvatore per la seconda parte della presentazione bene grazie Giulia adesso man mano entriamo proprio nei nostri cerchiamo di entrare nei nostri servizi e capiamo quello che è possibile fare e quello che dobbiamo fare nei nostri servizi tenendo conto quelle cose che sono state dette quelle vanno assolutamente messe in pratica questo è un manifesto fatto dalla Croce Rossa su per i senza dimora che sono anche qui le stesse raccomandazioni che abbiamo visto prima anche se a me può sorridere soprattutto per le persone che vivono per strada che possono poi fare attuare queste procedure forse la cosa migliore era quello di cercare di togliere queste persone dalla strada e approfittare per fare dei percorsi comunque di accoglienza però veniamo a noi noi abbiamo cercato di capire fin da subito quello che stava succedendo abbiamo mandato anche delle indicazioni già a metà di marzo proprio perché eravamo molto sollecitati da parte degli operatori di fronte a dei dubbi come comportarci cosa fare quali sono i percorsi alcune cose le abbiamo scritte alcune cose le abbiamo progressivamente migliorate alcune cose sono rimaste un po' sospese chiaramente ogni servizio ha le sue procedure i responsabili di servizio i capi aria in qualche modo hanno contezza di quello che succede quello che c'è da fare e quali sono le problematiche per cui i riferimenti rimangono sempre con queste persone quindi capo servizio e capo aria tenendo conto che poi c'è uno stretto lavoro di rete tutti insieme vediamo due aspetti in particolare quello che è successo che bisogna fare nelle menze ma diciamo queste cose che vi sto per dire sono cose che già facciamo perché chiaramente non abbiamo potuto aspettare la formazione per poterle fare l'abbiamo prima fatta e adesso in qualche modo ci servono per sistematizzare il tutto per le menze l'ingresso a scaglioni l'abbiamo già detto prima il prolungamento degli orari di apertura la valutazione della disposizione dei tavoli valutare la possibilità di ampliamento degli spazi noi abbiamo anticipato circa un mese e mezzo quasi due quelle che adesso sono le indicazioni che vengono date da parte dei DPCM o dalle ordinanze ecco quella la forma del tavolino come consigliavamo di sedersi tutte le persone che entrano devono comunque avere la possibilità anzi devono igienizzarsi le mani bisogna pulire le superfici dopo ogni utilizzo bisogna garantire laddove possibile un buon ricampio d'aria del motivo per cui alla mensa è stato proprio montato un padiglione fuori dalla mensa stessa all'aperto seppur protetto tutti gli operatori volontari soprattutto quelli per la preparazione a distribuzione del cibo devono indossare guanti monuso e le mascherine chirurgiche ripeto quelle chirurgiche certificate assolutamente quelli che toccano il cibo cioè che danno distribuiscono il cibo gli altri possono avere magari anche altri tipi di mascherine però sicuramente tutti quelli che sono a contatto col cibo devono avere quelle chirurgiche se una persona presenta manifestatamente dei sintomi legati a situazioni di raffreddamento influenzali para influenzali certamente questa è un'allerta è l'allerta principale che noi abbiamo quindi in questi casi bisogna subito naturalmente dargli comunque una mascherina chirurgica che serve a proteggere noi e le persone che stanno intorno a questa persona e in qualche modo quindi non farlo entrare nella struttura mettere magari in una parte più appartata più separata e fare la valutazione che poi ognuno di noi abbiamo imparato a fare in questo caso non serve chiaramente il medico non devi chiamare necessariamente il medico anche se i sintomi sono abbastanza evidenti è bene comunque consigliarsi ed eventualmente chiamare direttamente il 118 in realtà il consiglio che viene dato è di utilizzare il meno possibile l'ospedale il meno possibile il pronto soccorso tant'è vero lo vedremo per gli ospiti che sono presenti nei nostri servizi noi diciamo di fare sempre riferimento a un medico in questo caso se non si riesce a fare immediatamente riferimento a un medico noi dobbiamo tutelare comunque la persona quindi in questo caso può essere utile chiamare il 118 che comunque c'è un triage telefonico che quindi quelli del 118 valutano se effettivamente poi possono irla a prendere e portarlo quindi in una situazione di protezione lo stesso succede se la persona è dentro la menza e comincia a tossire comincia a far vedere dei sintomi specifici non è facile questo perché magari in questo periodo in particolare siamo in periodo di allergie quindi i due sintomi sono molto molto simili qui entra in gioco in qualche modo l'esperienza di ciascuno e comunque quegli elementi che sono il distanziamento sociale quegli elementi del lavaggio frequento delle mani quello della sanificazione costante delle superfici d'appoggio questi sono elementi che comunque sono importanti per la difesa di ciascuno se invece una persona che sta nei nostri centri di accoglienza presenta dei sintomi fornire la mascherina in realtà non abbiamo dato indicazione che forniamo le mascherine a tutti quindi indipendentemente dalla presenza dei sintomi all'inizio non era possibile perché non avevamo le mascherine ma da quando abbiamo a disposizione le mascherine abbiamo detto che questo aspetto lo facciamo nei confronti di tutti negli ospiti se una persona comunque presenta dei sintomi se è possibile far uscire l'aria aperta capisco che a volte non è possibile allora cercare di isolare in un ambito leggermente più isolato rispetto agli altri comunque mantenere sempre quel metro metro e mezzo due metri di distanza che Giulia ha consigliato confrontarsi chiaramente con il responsabile se è possibile consultare un medico di riferimento il medico di riferimento chi è? se la persona è iscritta al servizio sanitario nazionale è a un medico di base ad esempio in molte strutture d'accoglienza le persone che sono accolte hanno il loro medico di base è bene consultare il medico di base se non è possibile chiaramente ci stanno i numeri sia quello regionale che quello ministeriale che sono specificamente attivati per dare dei consigli in questo senso se no può essere chiamato anche un numero lo vedremo dopo dei nostri medici di Giulia o di Marica o di altri operatori che possono dare dei consigli e poi eventualmente chiamare il 118 i percorsi a volte non c'è una situazione così grave da chiamare il 118 anche perché ripeto in ospedale bisogna limitare l'invio solamente in quelle situazioni effettivamente di particolare gravità il percorso è complicato è un work in progress vi ho fatto vedere questa edificazione non ve la spiego adesso ve la spiego in conclusione della nostra relazione ma per dire che c'è un grossissimo lavoro di atrocasi perché in qualche modo il tema delle persone fragili non considerate solamente le persone anziane che stanno nell'RSA ma le persone fragili che sono presenti nei nostri servizi o che non sono presenti i nostri servizi quindi ancora più fragili perché stanno sulla strada possano essere presi in carico in maniera sicura da parte delle istituzioni chiaramente con la nostra collaborazione ma di questo ne parleremo in seguito l'ultimo step di questo nostro ragionamento è legato a un'ordinanza regionale del 18 aprile la 34 che detta diciamo le regole su quello che noi dobbiamo fare anche dal punto di vista organizzativo perché i nostri servizi siano attenti al tema della limitazione della mitigazione come si dice dell'infusione del SARS-CoV-2 che è diciamo il virus responsabile della patologia che poi si sviluppa che è quella da Covid quella che viene chiamata Covid-19 l'ordinanza regionale a chi fa riferimento sono indicazioni che valgono per tutti gli operatori compresi i volontari che intervengono strutturalmente nei nostri servizi ma valgono anche per i visitatori dove sono compresi dove sono previsti compresi coloro che vengono a fare manutenzione e valgono anche per le persone che noi ospitiamo o gli utenti dei vari servizi nel documento il documento definisce struttura qualsiasi struttura sanitaria socio-sanitaria o socio-assistenziale quindi la regione ha voluto fare un documento omnicomprensivo e questo è un po' il limite perché poi è difficile andarsi a ritrovare in quello che viene detto comunque questo sforzo l'abbiamo fatto lo stiamo continuando a fare chiediamo costantemente anche chiarificazioni alla regione tant'è vero che la regione ha fatto un intervento di chiarificazione dicendo che comunque queste strutture sono sostanzialmente strutture residenziali e semi-residenziali classificate secondo un criterio stabilito da una legge regionale che è la legge 41 del 2003 quindi le nostre strutture sono molto diverse ci sono strutture ad alto diciamo impatto strutture a medio impatto strutture a ancora più basso impatto quindi per ogni struttura a seconda dove tu sei classificato devi fare delle cose che sono altre adesso noi vi diciamo le cose che bisogna fare per capire a quale struttura ognuno fa riferimento vi direi di fare riferimento al vostro capo aria al capo servizio che ha fatto questo tipo di valutazione già di fatto noi ci siamo già collocati in questi tipi di strutture ci sono delle indicazioni generali che valgono per tutti i cittadini ma queste sono le cose che già sono state dette da Giulia e che la regione ripete come ordinanza quindi non sono delle opzioni ma sono delle indicazioni degli ordini tra virgolette che la regione dà a tutti i cittadini della nostra regione per gli operatori allora per gli operatori ci sono due indicazioni fondamentali se la persona ha febbre se sta a casa la mattina si sente male si misura la febbre o ha altri sintomi influenzali bene non deve andare a lavoro anzi non deve proprio uscire dal proprio domicilio deve chiamare il proprio medico di base e deve farsi dare i consigli che il medico di base riferisce in base a quello che individua e deve informare tempestivamente e dice la il DPCM responsabilmente il datore di lavoro perché il datore di lavoro poi deve fare altre cose deve fare deve allertarsi diciamo su determinate situazioni perché magari quella febbre è semplicemente una febbre stagionale ma può essere però il campanello d'allarme è qualcosa di più complesso e più articolato e quindi bisogna intervenire in maniera più adeguata gli operatori invece che vengono ai servizi perché già hanno misurato la febbre o per lo meno perché si sentono bene ecco non è che noi tutte le mattine dopo la preghiera facciamo la misurazione della febbre però queste strutture territoriali residenziali e semiresidenziali che appunto fanno capo a determinate tipologie devono al momento dell'entrata e dell'uscita del personale garantire il controllo della temperatura e tutti i dati devono essere annotati in un apposto registro anche elettronico che a richiesta può essere verificato da parte dell'ASL già questo succede in alcuni servizi in alcuni servizi l'ASL telefona mattina e sera per sapere come stanno le cose se ci sono state persone che hanno sviluppato la febbre oppure che hanno la febbre anche se poi queste persone noi le abbiamo poi allontanate però questa informazione è un'informazione che serve specificamente all'ASL per poter fare quella sorveglianza e quella interruzione delle eventuali catene di contagi l'ordinanza dice qualcosa in più dice oltre alla misurazione della febbre se la febbre c'è bisogna fare anche la misurazione della saturazione d'ossigeno diciamo questo effettivamente è possibile in alcune strutture alcuni servizi si fa ad esempio chiaramente qui in ambulatorio si fa noi però l'indicazione che diamo che se una persona un operatore ha la febbre al momento in cui non gliela misuriamo all'ingresso del servizio bene lo invitiamo a tornare a casa subito e avvisare il proprio medico di medicina generale per sapere le cose che deve fare per i volontari manutentori e fornitori allora volontari e manutentori si segue la stessa procedura prevista per gli operatori laddove è stato individuato che in quel servizio bisogna misurare la febbre all'entrata e all'uscita questa procedura vale anche per i volontari e vale anche per i manutentori per i fornitori no per i fornitori si è deciso di non farli entrare cioè praticamente farli rimanere all'ingresso e quindi depositare i materiali che hanno portato e quindi portarli noi all'interno se proprio devono entrare bisogna misurarli chiaramente una febbre a quel punto non è l'entrata all'uscita perché è chiaramente quasi contestuale la cosa e se putacasa una febbre assolutamente non devono entrare è previsto anche un bagno specifico la sanificazione del bagno insomma l'idea è proprio di non farli entrare nei nostri servizi laddove chiaramente è possibile per gli ospiti allora per gli ospiti quelle strutture dove è prevista questa sorveglianza per tutti gli accessi questa sorveglianza vale anche per tutti gli ospiti che sono presenti con misurazione della temperatura due volte al D ripeto non sono tutte le strutture sono pochissime le strutture dove questo è richiesto e queste strutture già sanno quello che devono fare tutte le altre strutture in tutte le altre strutture compreso gli uffici è consigliato sicuramente la misurazione della temperatura corporea in entrata e la registrazione in appositi appunto registri anche in questo caso gli operatori che hanno più di 37 gradi e mezzo bisogna invitarli di tornare a casa sentire il medico e poi il medico dirà cosa fare e quando possono tornare chiaramente al lavoro per tutti gli altri volontari manutentori e fornitori vedete valgono le stesse regole che abbiamo detto prima volontari manutentori e persone che accedono ai servizi si segue in qualche modo la stessa procedura prevista per gli operatori per i fornitori li teniamo in qualche modo fuori per le persone che assistiamo ecco qui esistono dei margini interpretativi che la stessa delibera della regione che il DPCM non ha chiarito completamente in questo caso il capo aria col coordinatore del servizio ha individuato in base a criteri di buonsenso e fattibilità la possibilità di fare la misurazione intercorporea oppure no ad esempio per i centri d'ascolto è consigliabile fare la misurazione corporea anche per le persone che entrano ad ascoltare per l'emporio c'è qualche dubbio da capire se è possibile farla oppure no sapete molto dipende anche dal tempo di permanenza della persona nella struttura tenete conto che tutti devono avere comunque la mascherina e che le persone che hanno sindrome influenzali si consiglia di non entrare nelle strutture stesse e questo l'ultimo schema che vi avevo promesso quali sono i percorsi percorsi non ci sono ancora purtroppo o meglio sono appena accennati diciamo per ogni situazione particolare bisogna in qualche modo combattere perché il percorso si attiva questo è il quadro generale irrazionale secondo noi che già dove essere applicato in fase 1 ancora di più in fase 2 e ancora di più da la settimana prossima quando diciamo si apre alla possibilità della circolazione delle persone cioè avere la possibilità che di fronte a un sospetto generico possa essere questo essere incontrato sulla strada pensiamo alle unità di strada che ci sono oppure un sospetto all'interno di un centro di accoglienza perché ad esempio una persona che è rientrata nel centro di accoglienza dopo un periodo che ha fatto fuori pensiamo i richiedenti asilo soprattutto i rifugiati che lavorano fuori e magari per alcuni giorni stanno fuori dal nostro centro di accoglienza oppure persone che abbiamo mandato in ospedale per vari motivi perché le patologie non si sono fermate chi sta all'ostello conosce bene la condizione di salute dei nostri ospiti che certamente non è brillante per cui l'utilizzo dell'ospedale anche in questo periodo c'è stato e c'è stato molto intenso e poi chiaramente li devi accogliere in alcuni casi soprattutto magari se sono stati in reparti Covid mischiati con le parti Covid è bene pensare a un isolamento bene dove fare questi isolamenti ed ancora le nuove accoglienze non possiamo stare sempre ad accoglienze chiuse bisogna riaprire le accoglienze ma come fare queste accoglienze sicure allora quello che noi abbiamo proposto noi quando dico noi dico Caritas Roma ma anche più in generale Caritas Italiana e dico tutta una serie di associazioni che si occupano di questo tema e questo schema l'abbiamo proposto due giorni fa a Borrelli quindi direttamente siamo andati nel cuore del sistema cioè siamo andati alla protezione civile a dire guardate se vogliamo essere efficaci questo è quello che noi riteniamo sia opportuno fare e cioè quello di passare attraverso un triage se vogliamo anche telefonico e poi con diverse possibilità se c'è un sospetto specifico inviarlo in maniera protetta in una struttura protetta dove c'è visita medica e tampone a cura dell'ASL e a quel punto in base a quello che succede si può decidere di mandarle in una struttura covid positiva oppure in una struttura covid negativa per un isolamento oppure se la situazione è grave chiaramente va direttamente in ospedale oppure se la situazione non è particolarmente critica cioè non c'è un sospetto specifico inviarlo comunque in una struttura che abbiamo definito struttura ponte di isolamento prudenziale dove passa i 14 giorni diciamo a rischio per poi poterlo includere nel sistema d'accoglienza sistema d'accoglienza che non può essere solamente il nostro sistema d'accoglienza noi ci siamo impegnati che tutte le persone che eventualmente mandiamo a fare questo percorso poi chiaramente le riaccogliamo ma deve essere un sistema d'accoglienza che si apre un sistema d'accoglienza che si potenzia proprio per permettere di avere meno persone possibili sulla strada e che abbiano un percorso in qualche modo sicuro e se vogliamo è anche un'occasione per tentare un reinserimento oppure dei processi di integrazione per queste persone stesse questo è il quadro do la parola a Giulia per un'ultima considerazione mi sembra sì e poi ci salutiamo o meglio poi ci sono le domande a cui daremo delle risposte e poi ci salutiamo a te Giulia sì c'è solo una diapositiva riassuntiva con alcune risposte a cosa fare in caso di dubbi è un poster del Ministero della Salute quindi qualche domanda l'ha anticipata al Ministero della Salute e altre poi risponderemo a quelle che avete fatto o state facendo nella chat quindi riassumendo quali sono i sintomi a cui devo fare attenzione sicuramente febbre sopra 37 e mezzo tosse che è soprattutto tosse secca e poi in generale sintomi simili influenzali come mal di gola raffreddore una forte astennia in alcuni casi hanno detto anche perdita di gusto e dell'olfatto però i sintomi vita sono febbre tosse e sintomi influenzali se con questi sintomi posso avere un sospetto di essere entrato in contatto con una persona che era positiva al coronavirus cosa devo fare? Devo sicuramente rimanere a casa se sono a casa come operatore o come volontario se un ospite come diceva Salvatore fornire la mascherina e metterlo in una condizione di isolamento temporaneo o in una stanza dedicata alla riaperta e poi contattare subito il medico non si deve ovviamente andare nello studio di medicina generale ma contattare il medico di riferimento laddove è presente se non è presente un medico di riferimento si possono contattare i numeri regionali o il numero nazionale sappiamo 1500 attivato dal ministero della salute che all'inizio aveva un po' di difficoltà a rispondere per la regione Lazio il numero regionale è 800 118 800 oppure in caso di emergenza sanitaria chiamare il 112 che poi mette in collegamento con il servizio di emergenza l'Ares 118 se mi trovo a casa a mio domicilio e ho questi sintomi come faccio a proteggere i miei conviventi le indicazioni ufficiali sono di mettersi in una stanza appunto isolata ben ventilata con una mascherina se possibile stare attenti all'utilizzo delle superfici comuni e attendere le indicazioni del medico di base sarà il medico di base eventualmente a dare delle indicazioni su dove è possibile fare il test attualmente nella regione Lazio è partita anche un'indagine di valutazione sierologica epidemiologico della presenza dell'infezione questi test vengono fatti sempre su chiamata da parte del SISP della dell'ASL territoriale e sono dei test sierologici cioè su sangue che valutano la presenza di anticorpi non sono test diagnostici di infezione in atto quindi in caso di positività non significa che una persona ha un'infezione in atto ed è contagiosa ma dovrà fare il tampone per valutare se l'infezione è ancora in atto in caso di negatività non significa che la persona non ha infezione perché potrebbe essere o nella fase iniziale dell'infezione e quindi non ha ancora sviluppato gli anticorpi o ha talmente pochi anticorpi perché è sempre nella fase iniziale dell'infezione e quindi non vengono rilevati oppure la positività è per anticorpi ad altri coronavirus perché c'è una grossa reattività quindi delle note ufficiali uscite recentemente sia del Ministero dell'Associazione sia della Regione dicono che il test che ci dà la certezza della presenza dell'infezione è il tampone il test sierologico è un test che viene utilizzato a livello di prevalenza per studiare diciamo la prevalenza epidemiologica per le informazioni attendibili dei siti che diceva all'inizio Salvatore appunto sono quelli di riferimento come diceva anche Salvatore prima abbiamo attivato un numero per eventuali dubbi domande che è quello che vedete scritto in diapositiva cioè 347 06 25 452 attivo da lunedì al venerdì dalle 10 alle 19 appunto eventualmente per consigli dubbi o domande altra possibilità è sempre fare riferimento al capo area e poi il capo area appunto si interfaccia con Salvatore con noi dell'area sanitaria e cerchiamo le risposte passo di nuovo la parola a Salvatore sì in realtà la parola per ringraziarvi tutti per questa presenza e attenzione tra ieri e oggi insomma quasi novantina di operatori hanno partecipato e comunque adesso cominciamo a rispondere alle domande che ci sono un po'